Ma che fastidio star qua a studiare, pensare che quest'estate sono andato in America, al deserto, in Arizona, bello, al caldo. Nel deserto come gli ebrei? Sì. Ah, però, ma senti, secondo te perché avevano riportato tutto il pezzo degli ebrei nel deserto? Non so, in realtà ci sono 40 anni. Una bella noia. Che utilità aveva? Chissà cosa hanno fatto poi in 40 anni. Sì, appunto, perché non lo chiediamo a Don Mirko? Ciao ragazzi! Buongiorno! Ciao bravi studenti! Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando di quanto sia noioso studiare, è più bello viaggiare. Ma di quanto noioso possa anche essere il deserto? Perché avevamo pensato, questi ebrei sono stati 40 anni nel deserto, a far cosa? Sì, 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 sì. Beh, anzitutto nella Bibbia il numero 40 è un numero simbolico, e cioè i 40 anni nel deserto vuol dire un tempo molto lungo, che supera una generazione, e quindi non è una parentesi nella vita di qualcuno, ma è un momento che ha plasmato proprio la vita del popolo, quindi un evento fondamentale. Ed è stato il tempo del deserto un tempo speciale, un tempo di prova. Perché motivi? Quando noi pensiamo al deserto, pensiamo a una realtà dove non c'è vita. Quando noi pensiamo agli ebrei nel deserto, pensiamo a una realtà nella quale era difficile trovare acqua da bere, trovare cibo, e tutto era sentito come precario. Questo certamente è negativo, sentire che la vita è in pericolo continuamente e che ogni giornata è una battaglia per la sopravvivenza. Ma la Bibbia racconta tutto questo per dirci che nel deserto il popolo, rispetto ad altre situazioni, può rendersi maggiormente conto di quanto speciale sia la protezione di Dio. Quando le cose normalmente vanno bene, sono facili, si rischia di dimenticarsi di Dio. Nel deserto invece ogni giornata veniva avvertita come un dono di Dio. E questo direi è il primo aspetto importante. Un altro aspetto importante è questo. Nel deserto c'è solo Dio con Israele. Non ci sono altre forme di vita, non ci sono altri concorrenti. Non ci sono quelle che al tempo dell'Esodo erano altre divinità, divinità della fecondità della natura. Nel deserto non c'è vita, quindi non ci sono altre divinità. Dio porta Israele nel deserto perché Israele si renda conto della bellezza di Dio, della grandezza di Dio e che di Dio c'è solo il Dio di Israele. Non ci sono altre divinità. Inoltre, ultimo aspetto, secondo me, nel deserto una persona non può prendere su di sé la ricchezza e tenerla stretta. Nel deserto bisogna essere agili. Non puoi portarti dietro tutto quello che hai. Non puoi accaparrare la ricchezza. Il deserto è un tempo di essenzialità. È un tempo anche di povertà. E infatti, se voi fate caso, tante volte, quando noi celebriamo delle veglie di preghiera, celebriamo dei momenti o viviamo dei campeggi, si dice facciamo insieme un tempo di deserto. che non vuol dire facciamo un tempo brutto, noioso, inutile, ma anzi facciamo un tempo prezioso nel quale ci rendiamo conto che c'è bisogno di concentrarsi su poche cose senza avere altre distrazioni in modo da avvertire di più Dio che ci parla, noi che possiamo ascoltare la sua parola. Quindi il deserto è un'esperienza assolutamente fondamentale per il popolo di Israele. Pensate a tal punto che anche noi, a volte, proponiamo un momento di deserto, di alta spiritualità, di ascolto della parola di Dio. Vediamo quattro difficoltà che ha incontrato il popolo di Israele nel deserto. La prima difficoltà è la difficoltà dovuta al fatto che non c'era acqua da bere per il popolo. E quindi cosa fa il popolo? Il popolo protesta contro Mosè. Dateci acqua da bere. Mosè disse loro, perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? Mosè capisce subito, protestare contro di Lui vuol dire, di fatto, non fidarsi di Dio. Vuol dire contestare Dio. In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza d'acqua e il popolo mormorò contro Mosè e disse, perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo, che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè, passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va, ecco io starò davanti a te sulla roccia. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa Emeriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero la prova il Signore dicendo, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ma allora perché questo popolo, nonostante tutti i segni che gli dia Dio, non si fida ancora di Lui? Sì, è un popolo come vedete che continua a protestare, protesta contro Mosè, mormora contro Mosè, lo contesta, dice era meglio stare in Egitto, in Egitto avevamo da bere, avevamo da mangiare, eravamo schiavi ma almeno ci tenevano in vita proprio perché da schiavi eravamo utili. Mosè dice voi state mettendo la prova al Signore, voi mancate di fiducia verso il Signore, voi in qualche modo state facendo una contesa contro il Signore. È vero, Dio aveva liberato gli israeliti dall'Egitto, Dio li aveva salvati di fronte agli egiziani inseguitori, Dio aveva risparmiato tutti gli ebrei mentre aveva colpito gli egiziani, eppure ancora manca la fiducia completa in Dio. Ma se pensiamo anche a noi, quante volte magari abbiamo sentito vicina la presenza di Dio, però magari in un'occasione successiva le cose vanno male, tanti problemi e anche noi manchiamo di fiducia. Penso che sia una dinamica di tutti i tempi che riguarda davvero tutti noi, insomma. Il Signore ci ha dato prova di amarci, di essere vicino a noi, ma noi tante volte abbiamo anche dei motivi per i quali vorremmo chiedere al Signore, perché succedono certe cose e anche noi mormoriamo perché non siamo contenti di come ci sembra che il Signore ci tratti. Emblematica è questa domanda, il Signore è in mezzo a noi sì o no? La domanda sulla presenza o meno di Dio nella nostra vita. E anche Giobbe nel suo libro fa questa domanda, ma tu Dio allora a che gioco giochi? Cioè sei presente oppure no? Per scoprire che il mondo è così grande, che Dio è presente, anche se i piani di Dio noi a volte, anzi spesso, facciamo fatica a comprenderli. Ma questa è un'altra storia, il libro di Giobbe lo affronteremo più avanti. Direi però che è importante riconoscere che il popolo tante volte si lamenta contro Mosè e questo è segno anche di una mancanza di fiducia in Dio. Risolto il problema dell'acqua, nasce un altro problema, e cioè il problema del cibo. Gli israeliti ancora contestano e dicono fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, era meglio morire lì piuttosto che passare questo tempo nel deserto in grandi difficoltà. Perché in Egitto eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Ed allora, a partire da questa protesta, da questo problema, si sviluppa l'episodio della manna. Un episodio famoso per cui il Signore garantisce agli ebrei nel tempo del deserto la manna e le quaglie come alimento. Sono un alimento speciale che ha del miracoloso e grazie a questo intervento di Dio lungo tutti i 40 anni nel deserto il popolo può continuare a vivere. La manna va raccolta tutti i giorni. Nella misura in cui poi andrà consumata nella famiglia la manna non può essere raccolta mettendola via. La grande tentazione di tutti gli uomini di tutti i tempi è di raccogliere su di sé quanti più beni possibili, quanta più ricchezza possibile. E invece la manna va raccolta giorno per giorno quella che serve. E questo direi è un grande insegnamento legato proprio al deserto per dire è importante vivere nella sobrietà avendo quello che ci serve. Perché se tu puoi avere tutto quello che vuoi la nostra natura è fatta per riempirsi di tante tante cose che rendono le nostre persone sempre più egoiste, sempre più chiuse rispetto agli altri, sempre più autosufficienti, ci crediamo sempre più supereroi e chiudiamo la porta in faccia agli altri e crediamo che sia tutto merito nostro. Invece il deserto è un tempo in cui si impara l'umiltà e si impara a non riempirsi di quello che non serve. Infatti c'è un episodio, e sono nel capitolo 15 del libro dell'Esodo al versetto 20, si dice che praticamente qualcuno disobbedì e raccolse molta più manna di quella che serviva e la cosa arrivò a tal punto che questa manna imputridì e marcì e si capì allora che questa era la punizione che ben si meritavano quelle persone che non avendo ascoltato Mosè che diceva raccogliete la manna che vi servirà ogni giorno, ne avevano presa molta di più per poterne avere tanta. Ma quella manna che non veniva consumata giorno per giorno andava marcia, imputridiva. Mosè si ritò contro queste persone, ma indicò anche che appunto nel deserto bisogna vivere sobriamente senza accapparrarsi tutti i beni. Ma quindi c'erano anche ebrei che non credevano fermamente a Dio? Direi che come in tutti i tempi non è sempre facile credere al 100% tutti i giorni della propria vita in Dio. Noi normalmente crediamo a Dio, siamo messi a volte alla prova ad alcune difficoltà, a volte sperimentiamo su di noi una tentazione che naturalmente non viene da Dio ma viene dalla nostra vita quotidiana. A volte sembra che Dio sia un po' assente, a volte vorremmo che parlasse di più. Diciamo che la vita è molto complessa. Nel caso che ci viene raccontato qui direi che alcuni ebrei, alcuni israeliti usciti dall'Egitto non si fidavano della parola di Mosè e forse in fondo in fondo si fidavano più di se stessi che di quello che Mosè ripeteva rispetto a quello che diceva Dio. Ma penso che questo sia un problema di tutti i tempi, cioè confidare in se stessi, nei propri schemi e non fidarsi invece di quello che Dio ci dice. Una mancanza di fiducia o meglio una fede non completamente piena che però rappresenta tante nostre vite. Siamo chiamati a fidarci sempre di più, ad affidarci sempre di più. Questo direi che è un messaggio importante. Anche perché quella volta che non ti fidi le cose comunque non si risolvono. Infatti qui il racconto dice che la manna raccolta in più non poteva essere utilizzata perché imputridiva. Andiamo avanti. Dopo il problema dell'acqua e il problema del cibo, la manna e le quaglie, abbiamo il problema di altri popoli che Israele nel suo percorso nel deserto incontra. E ci sono ostilità, ci sono battaglie e combattimenti. La Bibbia ci dice che al popolo di Israele andò sempre bene perché aveva Dio dalla sua parte. C'è un caso particolare a Malek, questo straniero che attacca battaglia contro Israele. Mosè disse a Giosuè, un suo collaboratore, tu vai a combattere, io starò sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. E Mosè, mentre infuria la battaglia, tiene le mani alzate. E quando Mosè tiene le mani alzate, Israele prevale. Quando Mosè per la stanchezza lascia cadere le braccia, prevalgono i nemici. Allora viene pensato uno stratagemma, una soluzione molto semplice. Due persone sostengono le mani di Mosè in modo che Mosè possa avere le mani alzate per tutta la durata del combattimento e garantire ai suoi la vittoria. Il senso di questo brano, al di là di questa descrizione così particolare della battaglia, è di dire che Dio difende il popolo di Israele e gli permette di vincere e sconfiggere tutti i popoli che Israele incontra nel suo tempo nel deserto. Ma perché tra tutti i propri Israele? Vedremo, vedremo, quando Dio fa alleanza con il popolo di Israele sul monte Sinai, che il fatto che Dio scelga Israele non è a scapito delle altre nazioni. Israele è un popolo scelto da Dio perché tutti i popoli, guardando a Israele e guardando come vive bene Israele, possano dire questo è il popolo che è un faro per tutti gli altri popoli, per tutto il mondo, un faro che ci insegna a chi credere, credere nel Dio di Israele, nel vero Dio e come comportarsi. Quindi è chiaro, in certi momenti c'è una preferenza di fatto che fa sì che Dio difenda Israele, ma direi che solo in maniera secondaria è a scapito di altre nazioni. L'importante qui era legarsi a Israele e far capire a Israele che Dio lo avrebbe difeso fino in capo al mondo. E per difendere Israele dall'acqua e dal cibo non c'è un problema, garantisce da bere e da mangiare. Di fronte a popoli nemici difendere Israele vuol dire sconfiggere questi popoli e permettere Israele di passare avanti. Ultimo aspetto, nel deserto nascono liti e tensioni nel popolo, Mosè dice che bisogna istituire dei giudici che facciano giustizia tra questi miei connazionali. Anche qui vediamo che il popolo di Israele come del resto tutti gli altri popoli è un popolo che si lamenta, è un popolo che non sempre ha una bella fiducia e una forte fiducia in Dio, è un popolo al cui interno ci sono tante beghe, tante complicazioni, tanti processi e quindi anche qui ci viene descritto un popolo molto reale dove le cose non vanno sempre bene ma spesso ci sono mormorazioni, problemi e tensioni.